Paura ieri in via Togliatti a Capaccio Pestum dove quattro rapinatori stranieri a volto coperto hanno fatto irruzione all'interno di una villetta. Dopo aver forzato il cancello del giardino, i quattro hanno risalito l'appartamento attraverso un balcone e una volta entrati dentro hanno minacciato una sedicenne di restare in silenzio nella sua stanza. La ragazza però spaventata è uscita fuori dal balcone iniziando a urlare e a chiedere aiuto. In pochi secondi è sopraggiunta la madre che ha visto i banditi fuggire senza bottino a bordo di un'auto scura di grossa cilindrata, azionando una sirena e battendo le mani sulle portiere come per simulare un blitz delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri che ora indagano sull'accaduto.